Il segreto di un campione passa anche per l'alimentazione. Qual è il vostro segreto, visto che ci tiene molto il mister all'allenamento, alla squadra, a quello che si mangia? Sì, come tutte le altre squadre. Abbiamo uno professionista che ci segue, il nostro cuoco, il nostro dottore, che fa sempre il suo programma. È importante l'igiene di vita, di riposarsi molto, che un atleta deve essere sempre pronto ogni tre giorni. Che percentuale siamo, secondo te, in questo momento, se dovessi indicarle, a una Roma? Un 80%, sicuramente. La squadra aumenta specificamente, quello è importante. Stiamo lavorando tanto. Stiamo lavorando bene qua in Austria. Questa è la più facile di lavorare che in America. Non meno viaggia, ma ovviamente miglioriamo, stiamo sempre meglio. E arriverà con le partite, la prima partita è una partita che sarebbe molto bene. Grazie.